Ciao ragazzi, ciao ragazze! Benvenuti in questa nuova challenge che è indosso questa venda! Perché questa è una challenge da vendati! Dovrò recuperare tutti gli ingredienti slime dentro la piscina e fare un bellissimo slime sirena! Tiffany, sei pronta a buttare gli ingredienti slime in piscina? No! Ma sempre no rispondi! Sì! Allora, prendiamo l'ingrediente! Ecco gli ingredienti slime! Ginevra, tu devi mettere la venda! Non puoi guardare dove gli ingredienti vengono buttati! Aiuto! Ecco qua! Ma prendili uno alla volta! Ma perché li trasporti tutti insieme? Butta lì uno... Ginevra! Aiuto! Guardate che Ginevra finisce in piscina! Stai ferma se no cadi in piscina! Guardatela! Devo tenerla! Aiuto! Allora, buttali qua e là, eh Tiffy! Non buttarli tutti nello stesso punto, eh! E tu non barare che lo sanno tutti che sei una barona! Non è vero! Sì, sì, va bene! Dai, dai, va bene Tiffy, va bene! Ma certo che le stagalle è normale! Prendi gli altri ingredienti! Ok, tanto loro se ne vanno in giro! Gli ingredienti vanno in giro! Forse il cucchiaio andrà giù, eh! Non lo so! Ma cosa fa Ginevra? Balla mascherabile, bendata! Va giù, va giù! È difficile! Allora... Ma quello è difficile da prendere? No! No, non provarci tu! Deve farlo lei! Aspetta, aspetta! Vuole giocare Tiffany! No, lo mettiamo più in giro! Aiutate! Che è più difficile! Ah, che cattiva! Sta rendendo il gioco più difficile! Ma dove va Ginevra? Ah, meno male che non si può cadere di sotto qui, altrimenti saresti già volata! Affondate oggetti! Tu vuoi renderle la vita difficile, eh Tiffany? No, non faccio! Posso iniziare? Aspetta! Aspetta! Ok! Il gioco può avere inizio! Adesso io ti do l'arma! Ti do la canna da pe... Adesso! Ma stanno giusto, ho staccato un ingrediente! Ecco la tua canna da pesca! Il tuo rettino! Il tuo rettino da pesca! Allora, adesso Tiffany ti darà le indicazioni per prendere gli ingredienti! Potrò darle sia a case che... No, dai! Devi dirle vere! Ma cosa ho fatto i bagni o non ti vedo? La maggior parte le darò vere! Dai! Dai! Puoi iniziare! Via! Allora... Metti il rettino... Così! Tienilo fermo! Tu non devi toccarlo! Devi solo dare indicazioni vocali! Vai a... Sinistra! A sinistra! Quasi! Non c'è niente! Mi state portando uno scar! No! Sì che c'è! Vai indietro! Cosa hai preso? C'è una cosa! C'è una cosa! Aspetta che la ributti in piscina se no stai attenta! No! Aspetta, aspetta tirala fuori! Cos'è? Aiuto! Un ingrediente è stato preso! Fa vedere, fa vedere dammi che forse lo riconosco! Daglielo! E' una colla! Brava! Prossimo ingrediente! Forza! Pesca! Ma dove vai? Penso un po' se cadevi in piscina! Vai a destra! Destra qua! Ok! Vai! Brava! Ma cosa ha fatto? Lo dò! Troppo tifo! Ho trovato due ingredienti! Visto che... Cioè, il primo gigretto è stato... Cos'è? Non lo so! Cos'è? Dai, dai! Ma guarda che... Ti prende a colpi di retino! Maizena? No! No! Ma dai, non importa! Continua a pescare! A destra! Io a destra! Questa finiscia! Vai! Brava! Sì! Ma cosa fa? Ma cosa fa? Aiuto! Io scappo! È passata di nuovo! L'avevi preso! Ma lei... Come l'avevo preso? L'avevi preso? Ma ogni volta con questo rettino fai dei salti! Vai! Direttro in fondo! Ancora! Ritenta! Vai! Quasi! Quasi! Provati! Cos'è? Hai preso... La colla! Non è colla! Non è colla! Tiffany! Non si fa! Ma Tiffany l'ha ributtato in piscina! Adesso lo deve venire! E lei l'ha ripreso! E lei l'ha ripreso! E lei l'ha ributtato! Quasi in pari! Basta Ginevra! Ce l'hai dentro! Ce l'hai dentro! L'hai ributtato! Brava, brava! Adesso... Ok, bravissima! Aspetta! Ok! Prendi! Pronti! Prossimo! Sì! Ma dove vai Ginevra? Vai a sinistra lontano! Ho paura di finire in rettentino qua! A sinistra lontano! Ma guarda che finisci in piscina! A destra lontano! Potremmo dire a destra! L'hai preso! Evviva! Stai ferma dove sei! Sì! No! Prossimo ingrediente! Pronta! Sono le... Le gomme! Le gomme! Le gomme! Le gomme di gomma a piuma! Non si sa! Lo vedrai alla fine! Vai a destra lontano! Bravissima! No! L'hai ributtato! Ok! Brava, brava! Ce l'hai! Ce l'hai! Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, Ginny! Aspetta, prendilo! Cos'è? Cos'è? Ma cosa fai? Ma cosa fa, Ginevra? È una... Lo scoprirai! Dai, prossimo ingrediente! Vai a sinistra lontano! Ne mancano due! Ne mancano solo due! No! No, brava! No, no, no! Sì, brava, brava! Un po' più a sinistra! Che cattiva che è Tiffany! Ragazzi, sentite quanto è cattiva! Più a sinistra! Non ci vede niente! Eh, meno male che non ci vedi! Altrimenti che challenge bendata sarebbe! Ah! Aiuto! Guardate Tiffany! No! Ha guardato! Ho visto! Guardato! No, eh! Sì, è sistemata solo la mascherina! Eh, non imbrogliare! No, non imbrogliare! Ragazzi, riprendiamola bene, eh! Che lei ci prova, eh! A farla furbetta! Non hai preso niente! Continua a pescare! Ha schiantato! Ha un bel bagnetto, anche se l'acqua geli! Sì, ce l'hai! L'ultimo è morto! Brava! Tiralo fuori! Aiuto! Prendilo con la mano! No, Tiffany! Non tirare l'acqua tua sorella, poverina! Ok! Brava, brava! Prossimo ingrediente slime, forza! Prossimo è... Vederemo! Prossimo è ultimo! No, perché l'hai detto! Eh beh! Non ce la farai io, quindi... Dobbiamo darle qualche indicato! Aiuto finisce in piscina! Finisce in piscina! I capelli sono già lavati! Devi andare in alto, non andare in basso con il retino! Devi andare in basso, invece! Adesso l'aiuto io, perché Tiffany è una cattivona! Non l'hai preso! L'hai preso? No, non l'ho preso! Sì, brava! Dai, Tiffany! Ma sei veramente dispettosa! No, no, no! L'avevi preso! Uffa! La tifonina dispettosa! Dai che lo riprendi, Gin! In fondo, in fondo, in fondo! Segui le mie indicazioni! Ci sei quasi! Rivai di... No! In fondo, in fondo! Non è una vera furbetta! In fondo! No, senza fare così, Ginevra! Che non lo prendi, se no! In fondo, in fondo, in fondo! No! Dalla parte dove eri! Non ti ho detto di spostarti! Segui le indicazioni! Ginevra! No, ci sei quasi! Ci sei quasi! Prendi, 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 prendi! No! Torna indietro! Aiuto, ragazzi! Sapete che faccio io? Lo prendo io adesso, questo ingrediente! Perché lei l'aveva preso! E Tiffany è stata così cattiva! L'hai preso! L'hai ripreso! Brava, Gin! No! Ok, lo so se vuoi che lo riprendi! Cattiva, Tiffany furbetta! Tiffany dispettosa! Brava! Adesso... Non posso schiacciarlo! Aiuto! Oh mio Dio! Guardate, Ginevra! Mi posso buttare, ragazza? No! Allora, adesso puoi sbendarti! Guarda che pasticcio! L'hai buttato in apertura! Ecco, Ginevrina! Ma è bicarbonato! È bicarbonato! Che sta... Ah, che bello! Spacchettando dalla pellicola i suoi ingredienti slime! Per fare lo slime! Qui ci sono tutti i nostri pelosini! Che ci chiedete sempre di loro! Qui c'è Cherie! Qui c'è Hermes! Hermes è questo bel biondo qui! Eccolo qui! Qui c'è Chanel! Chanel è lì che fa la guardia! Uno fatto! Brava! E qui c'è Dior! Il più piccolino dei piccolini! Eccolo qui! Ogni tanto vi salutano anche loro nei nostri video! Ce l'ho fatta! Anche questo, mamma! Guardate come sono gelosi! Si vogliono far coccolare tutti quanti! Fanno a gara chi prende più coccole! Guardatela! Cosa sta facendo? Vuoi buttarti in piscina! Vuoi buttarti in piscina? Amici vi piacerebbe che io adesso andassi lì e buttassi Tiffany vestita in piscina? Ci saranno altre occasioni per farlo! Mi manca solo la colla! Adesso ci concentriamo sullo slime! Allora, secondo me lo slime sirena deve essere molto 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 prezioso! Deve essere tipo... Sirenoso! Unicornoso! Visto che abbiamo detto... Ma cosa... Cosa fa? Ma cosa fa? Ma strinzò la pellicola! Visto che abbiamo detto che le cose con gli unicorni sono unicornose, questo sarà uno slime sirenoso! Si, allora... Slime... Vedete abbiamo tutte queste paillettine... Si! Che sono molto sirenose! Poi abbiamo la colla azzurra con i brillantini... La colla bianca! La colla trasparente... L'attivatore... E il bicarbonato! Ok! Quindi incominciamo dalla colla trasparente... Brava! Via! Non ne metto né troppa né poca! Ve la viagliatricerò! È un diavoletto! Lo butterò dal balcone! Iniziamo questo slime! Non riesco a tenere la ciotola ferma! Aspettate che ne sto mettendo pochissimo adesso! Questo slime deve essere super bellissimo! Deve essere sirenosissimo! Sirenosissimo! Io direi che così può bastare oppure... Fai vedere! Ma sì dai che tanto ci mettiamo anche la colla azzurra! Allora viene bello grande! Facciamo questo adesso... Ok! Come sia! E toglila tutta! Togli tutto il tappo arancione così esce di più! Ed ecco... Abbiamo tolto direttamente il tappo perché siamo due imbranate! Adesso... Mescoliamo! Mescoliamo! E intanto vediamo come... Wow! È già sirenoso! 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 Che bello! E si sta già un po' timando anche se... Ma se c'è solo la colla! Ma che cosa stai dicendo? Oddio Ginevra! Ok! Adesso andiamo a mettere... Mettelo qui! Se no riempi di colla tutto l'astraio! Adesso un po' di liquido per lentine! Ma no! Prima ci vanno i brillantini e il bicarbonato! Ma ti devo dire tutto io! Ma insomma... Ok! Ecco direi che così... Vado? Vai vai vai! No tutto tutto no! Così! Bravissima! Che poi ho paura che sia troppo! Ok dai! Wow wow! Aspetta facciamo vedere! E qui ci mettiamo un pezzettino di scaccio così lo chiudiamo per gli altri slime! Eh ragazzi guardate cosa sta succedendo alle mie spalle! Ma cosa fa Tiffany? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma ti sei bevuta il cloro? Ti sei ubriacata di cloro? Ma cosa fa? Ma cosa fai la macarena? Tataratatatatatataratataratatanatatra Tataratatataratatataratatarata chanel vuoi le vuoi fare uno slime ok direi basta così dai liquido per lenti cioè liquido per lenti inattivatore e poi giriamo a mettere di più ma quello lì non basta mescola 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 vediamo un po se viene speriamo che si attiva oh my god wow si attiva subito si sta attivando ragazzi ragazze è veramente sirenoso allora si è tutto appiccicato wow mescola 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 wow aggiungerei Tiffany non sei ancora finita tutta in piscina ma cosa fai voglio buttarmi mi piace troppo è bellissimo guardate che meraviglia tutto colorato che bello fammi vedere wow ragazzi ci emozioniamo per uno slime guardate il colore il mio colore preferito posso farmelo scoppiettare un pochino scoppiettare wow che bello a me piace tantissimo rosa fucsia sono i miei colore preferiti però anche questo è bellissimo sentite scoppia aspetta eh no me l'ho venuto a casa che fa silenzio no no non te lo do questo qui è mio me lo rubo io scherzo aprilo un po' che voglio far vedere anche tu vuoi giocare amore mio piccolo aprilo che lo facciamo vedere bene facciamo vedere bene il colore allora lo apro bene così potete vedere tutte le scaglie che ci sono dentro aspetta la teoria deve fare un pochino aiuto ma cosa fa Tiffany da dietro wow vedete ragazzi si adesso che sono al sole si vede benissimo che bello adoro 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 adesso ne allunghiamo poco lo slime è venuto lo slime è venuto e cosa si dice alla fine inizia tu che poi vado di la ok allora speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire soprattutto con Tiffany che va alla vola ma carena è ancora lì guarda ma cosa sta facendo il morto non lo so cosa fa adesso quindi cosa devono fare tutti quanti tutti quanti devono obbligatoriamente scherzo chi non è ancora iscritto deve iscriversi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video e lasciate tantissimi pollici in su e seguitela su instagram ma Tiffany fa il vampiro in piscina oh mio dio mi ricorda mi ricorda il video del vampiro che brutti ricordi paurosi aiuto ciao ragazzi al prossimo video ciao